Mercoledì a Caffarsetti i candidati sindaci Cassone e Brugnaro hanno incontrato il commissario Zappalorto e quello che ne è emerso sulle condizioni in cui versa la città non è stato nulla di buono, bilancio in primis. La situazione è drammatica, che lui, stando alle notizie di ieri, perché adesso potrebbero anche cambiare, però le notizie di ieri sono che il commissario dovrà chiudere il bilancio, non può lasciare una bozza di bilancio. Chiudere il bilancio vuol dire fare un bilancio da lacrime e sangue, un bilancio da lacrime e sangue e le lacrime e sangue purtroppo, come sempre, sono della povera gente. Ringrazieremo questa amministrazione, questi ultimi colori di questa amministrazione, speriamo che i cittadini si ricordino. Di qui Luigi Brugnaro torna ad affrontare il tema della sicurezza, uno dei punti cardine della sua campagna elettorale. Qui non abbiamo bisogno di magistrati che vadano a correre dietro ai ladri, ci sono già la forza dell'ordine, qui abbiamo bisogno di prevenire i furti, di prevenire la violenza. Le persone devono muoversi tranquillamente, in certi casi non c'è neanche il reato, dobbiamo prevenire anche il disturbo, il disturbo molesto, fisso, costante, continuo. Intanto Renato Boraso, il primo a dichiararsi ufficialmente in corsa per la poltrona di sindaco, ha deciso di fare un passo indietro e appoggiare Brugnaro, che lancia un chiaro messaggio alla cittadinanza. Io non ho mai avuto niente contro nessuno, non faccio una compagna contro, ma a questo punto la scelta è molto chiara, è chiara tra il partito del fare, del fare, 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 non dire, dire che farò, fare, e ci vuole gente capace di fare. Il partito del no, no al Mose, no alle grandi navi, no a Brugnaro, no a tutto, qualsiasi roba si muove. Basta con la teoria che arriva uno intelligente e decide lui per le persone che ci abitano. Sta storia va a finire, si chiude, andate a votare il 31 maggio, perché si gioca il futuro dei vostri figli, dei vostri nipoti.